Parigi Chiara sorridente, Chiara pensierosa, Chiara sognatrice, Chiara tosta, i capelli sciolti, un filo di trucco, una camicia bianca, i suoi tattoo, ed bella nella forza della normalità dei gesti e delle pose la nuova campagna Pomellato for Women by Peter Lindbergh con le protagonista Chiara Ferragni che sarà presentata questa sera all'ambasciata italiana a Parigi, secondo appuntamento del progetto portato avanti da Allad e dell'azienda Sabina Belli, di creare nel tempo gallerie ed immagini di donne rappresentative di una moderna femminilite che va oltre agli stereotipi della bellezza fine a se stessa. Il nuovo ideale femminile Chiara racconta entusiasta Sabina Belli rappresenta quello che vogliamo raccontare e ciò che esiste una nuova bellezza, forte, senza sforzo alcuno, giovane, intelligente e semplice, ambiziosa e determinata, una donna che ama, presto mamma e ogni giorno si mette in gioco di fronte a 11 milioni di persone. Lei, certo, non ragazza da rispondere ai complimenti con un grazie e un battito di ciglia o senza analisi. La mia una storia di successo grazie a me stessa e agli amici e alla famiglia. Sono la dimostrazione del fatto che qualsiasi cosa una donna voglia far pur riuscirci. E con onesta che il tema oggi chi accomuna donne e giovani. Penso siano stati anche i social a portarci a questo momento. È al coraggio di dire le cose e senza farsi intimorire da niente e da nessuno. La forza a essere se stessi. Prima di Leone è vero che è stata fotografata. Letteralmente. Nei propri panni. Assolutamente. E tutto in un solo giorno. Senza ritocchi. Veder lavorare l'inver senza luci o artefici stata un'esperienza unica. Sar l'ultima campagna prima della nascita del piccolo Leone. Prevista in aprile. a Los Angeles. Penso proprio di esse. Ora si vede proprio. Partiremo nelle prossime settimane. Ci rivedremo a giugno. Fino ad allora mi occuper di numeri e biberonne.